Lo stato d'animo è di rabbia, tristezza, stavolta non si sa quale prevalga di più. Più si va avanti e più c'è uno scenario spettrale. Quanto territorio ha bruciato? Ma non lo so perché un po' a macchia del leopardo ha saltato in diversi punti, ma io sono sicuro più di 200 ettari di bosco. La maggior parte sono sulle rette, le ha danneggiate seriamente. Anche i privati? Sì, soprattutto i privati. La maggior parte del territorio del paese è di privati. Quindi c'è una produzione anche che è stata distrutta, produzione olearia? Per quanto riguarda la produzione olearia, sì, diversi olivetti sono stati a fuoco, quindi distrutti totalmente. Questa è la strada che porta a Senale e Mannu e come possiamo vedere i terreni sono tutti bruciati. Stiamo ancora facendo il conto dei danni, sta facendo ancora dei sopralluoghi, però fortunatamente le forze intervenute sono state tantissime e tuttora stanno intervenendo per le bonifiche. I sopralluoghi dell'amministrazione comunale, con in testa la sindaca Patrizia Carta, proseguono in tutto il territorio. La nota positiva delle campagne devastate è che per fortuna non sembra che Bestiame sia stato coinvolto nell'incendio di ieri. A Sant'Agostino, qui, quello che è il luogo della festa, quello che viene vissuto principalmente dagli avvasantesi, non appare questo danno. Poi uno se si affaccia, se si sposta, stamani si vedono ancora dei fumi. Questa è un'altra strada, quella che porta al Campo Scout, anche la compagnia barracellare di Abbasanta sta effettuando dei sopralluoghi. La situazione al Campo Scout come è? Allora, stavamo nella sede Scout, i ragazzi hanno dormito, sono stati ospiti presso il CAIP e stamattina stanno prendendo tutto per andarsene. Martino, dove ieri c'erano i 48 ragazzi che sono stati fatti evacuare per sicurezza. Siamo stati subito allertati dalla protezione civile e dalla forestale per incominciare a preparare l'evacuazione e metterci sulle vie di fuga. Quindi noi abbiamo mobilitato dai più piccoli ai più grandi per riuscire a metterci in sicurezza. E poi grazie al dispiegamento di tutte le forze dell'ordine e il comune di Abbasanta, che ringraziamo tantissimo, siamo stati ospitati presso la scuola di addestramento della polizia. Abbiamo passato la notte lì e adesso oggi ritiriamo tutto e torniamo a casa. E comunque è stata un'esperienza estremamente formativa per tutti noi. Vi siete spaventati? È abbastanza, perché comunque è la responsabilità di un gruppo così numeroso, soprattutto di bambini. È un qualcosa che non bisogna sottovalutare mai e bisogna essere pronti anche in caso di questa emergenza davvero lucida e capacità organizzativa. Fermo restando che questo è un campo attrezzato, con misure di evacuazione. Assolutamente, la base di San Martino è assolutamente ben curata nei dettagli e soprattutto la gestione dell'antincendio è formidabile. È la base attrezzata di tutte le attrezzature, idranti e quant'altro. Ci sono piani di evacuazione e vie di fuga preparate. Quindi assolutamente eravamo in grado di stare dietro all'emergenza. Poi l'importante alla fine è che tutto si concluda comunque come un'avventura. I bambini hanno comunque un morale alto, hanno affrontato tutto nel migliore dei modi con il sorriso. Giorni dopo in genere ci si interroga su che cosa si possa fare per evitare queste cose. Anche per i comuni però al giorno d'oggi è difficile. La cosa importantissima per fare è la prevenzione e la prevenzione la si fa tutti insieme perché fa male. Fa male vedere l'ambiente rovinato con il rischio che anche gli animali, le persone possano accusare i danni. Per cercare di arginare gli incendi secondo me bisogna accumulare acqua il più possibile. Abbiamo diversi ruscelli, cercare di fare dei bacini in raccolta dell'acqua e soprattutto pulire gli appezzamenti dove il fuoco fa da padrone. Quando parte l'incendio, soprattutto con le temperature di ieri e il vento che lo alimenta, la cosa fondamentale è pulire i terreni. Altrimenti non si riesce né con i metri aerei né la terra è molto difficile contrastare le fiamme. Perché, ripeto, con una giornata come ieri c'erano altre temperature e molto vento, ma è molto difficile. Molto difficile e anche pericoloso. Se ce la fai a venire abatti e ti formi al limite del bruciato, io cerco di entrare dall'altra parte per spegnarlo anche dalla parte interna perché non dà pure l'ultimo.